Sono stati Chiara Benieri almeno per 18 mesi. Vuoi giocare? Gioca con tutti lei. È vero? Sì, è vero. Fatti sempre la corsettina. Andiamo? No. No. Adesso lei ti segue. Sì, lei è diventata mia. Ma lei lo sa di essere la copia di Tiffany grande? Eccola, eccola. Si è oscurato l'obiettivo. Perchè? Chissà per quale sparo motivo. Vogliamo far alzare l'impiedi e la bionda. È una... Penso che devo mangiare l'impiede. Ah, ti dici. Aspetta, facciamo di nuovo. Ecco. E' bella. Ma sì, proprio bella. E' bella. E' bella. Sta facendo girare l'occhio. Un po' di più. No, non. E' bella.